Ciao ragazze, oggi vi farò vedere tutte le mie agende. Sono arrivata a quota 6 e la mia più grande soddisfazione è che le uso tutte. Adesso vi spiego come. Iniziamo dalla Filofax Penny Bridge, che è l'agenda che uso più di tutte perché ha anche il mio portafoglio. Giù nell'info box trovate i link dei quattro video che le ho dedicato. Rispetto alla review che ho fatto quasi un anno fa, posso solo confermare tutto quello che di positivo ho detto allora. Anche con un'arri un po' più vissuta è ancora molto bella e praticamente intatta. Il portafoglio è capiente. E nella parte agenda ho fatto un setup molto casereccio, che a me comunque piace e fa comodo, dove annoto le entrate e le uscite bancarie, le ricariche telefoniche e delle carte ricaricabili e gli ordini che faccio su internet. Rimanendo sempre in casa Filofax e sempre su questioni di soldi, adesso vi faccio vedere la Filofax Domino, che è anche l'ultima agenda che ho acquistato. Sulla Filofax Domino annoto e pianifico tutte le mie spese. L'ho presa su Amazon, in A5 e nella colorazione hot pink. All'interno ho creato tre sezioni, mese, quindicina e diario. Per fare i divisori ho scelto tre carte della Crelando che mi piacevano e le ho plastificate. Nel refill mensile ho messo in alto il nome del mese. Nella casella verde segno le entrate, in quella rossa le uscite fisse. Sul retro pagina uno spazio per le note e uno per la wish list dove segno tutte le cose che desidero acquistare in quel mese. Questo è il refill della quindicina. In alto segno quindicina dall'al metto le date. Qui le spese fisse che metto in preventivo di fare in quei 15 giorni. Mentre da questa parte segno le spese fisse preventivate che effettivamente realizzo. In basso a sinistra come divido i soldi in quei determinati 15 giorni. Qui a destra quali spese della wish list ho effettivamente fatto nella quindicina. Sul retro della pagina un ampio spazio dedicato alle note. Nel refill giornaliero ho messo la settimana su due pagine, dal lunedì alla domenica e le note nell'ottava casella. Per tutto quello che riguarda i bambini uso questa agenda giornaliera in A4. Della Legami o Legami che dir si voglia. Che acquisto ogni anno dal sito nella colorazione rosa magenta. Nello spazio rimanente attacco anche tutti gli scontrini delle cose che acquisto ogni giorno. Poi ho la discagenda di IVA che uso come agenda del make up. Ho fatto il video dedicato a questa agenda dove vi spiego come la uso e che setup ho fatto. Vi lascio il link giù nell'info box. In pratica ho creato delle sezioni dedicate al make up dove catalogo i rossetti MAC, i rossetti Dior, tutti i rossetti, tutti i blush. I prodotti di skin care e di make up con il nome del prodotto e il prezzo. I riferimenti delle ragazze che ho conosciuto qua su YouTube. E nello spazio che ho lasciato alla fine segno ad esempio i make up che mi piace realizzare di più. Appiccico delle foto e tutto quello che mi viene in mente. Concludo questa carrellata di agende con le due happy planner, la big e la normal. La più piccola è una peoni da 18 mesi del 2016-2017 che uso come bullet journal. Secondo questa leggenda, il puntino è il to do, il trattino è l'evento, il pallino è la nota. La X è il to do fatto, la freccetta è il to do rimandato. Lascio l'agenda sempre aperta sulla settimana in corso. Segno ogni giorno tutto quello che devo fare, gli impegni, le note, gli avvenimenti. Per trovare facilmente il giorno mi aiuto con questa spillina che vedete che mi ha regalato la mia amica Daniela. Uso questa agenda anche un po' come post-it. Nel senso che ad esempio quando faccio una telefonata, che ne so, al pediatra, anziché portarmi tutti i foglietti su cui poi scarabocchiavo irrimediabilmente, segno già qui nelle notte quello che mi viene detto al telefono, di modo da non perdere e avere sempre tutto sotto controllo. In questo modo devo dire che il mio tempo riesco a pianificarlo un po' meglio. La happy planner big invece è in dimensione a 4 ed è proprio la mia agenda, quella su cui segno tutto quello che mi succede ogni giorno, attacco le foto, che ne so, dei bambini, segno magari dei pensieri, delle riflessioni, degli sfoghi. E anche l'agenda che decoro di più attaccando washi tape, vi faccio vedere uno scorcio di pagina perché ci sono cose anche molto personali, per cui insomma è proprio tra tutte le agende che ho quella più personale. Per oggi è tutto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!